Dal 2011 a oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sono sbarcati sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Quasi un quinto oltre 140.000 persone solo negli ultimi due anni. Anche con una interpretazione molto generosa delle norme sui rifugiati che è stata applicata dall'Italia in questi anni, solamente l'8% di chi è sbarcato illegalmente ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione. Gli altri, per la quasi totalità, uomini soli in età da lavoro, adulti, sono semplicemente immigrati illegali. Una situazione insostenibile anche in termini di sicurezza per l'Italia e per l'intera Europa. E proprio l'Unione Europea da anni chiede agli Stati membri e in particolare all'Italia di difendere i confini nazionali ed europei. Nel 2017 la Commissione ipotizzava un blocco navale, sì proprio il blocco navale, per fermare la partenza dei barconi e le morti in mare. E numerose altre volte ha chiesto misure serie e concrete di rafforzamento delle frontiere esterne e di cooperazione con i paesi terzi per il contrasto all'immigrazione illegale. E anche il contenuto del nuovo patto UE per la migrazione e l'asilo voluto da Ursula von der Leyen. Questo è l'unico caso in pratica in cui ce lo chiede l'Europa, non piace alla sinistra e non va bene. Fratelli d'Italia propone sì il blocco navale, perché come abbiamo spiegato mille volte si tratta di una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare insieme a loro la tratta di esseri umani e istituire in territorio africano spot gestiti insieme all'Unione Europea dove vagliare le richieste d'asilo e distinguere chi ha diritto alla protezione internazionale da chi quel diritto non ce l'ha. Vogliamo in pratica ribadire un principio semplice, in Italia si entra solo legalmente perché non facciamo gestire i flussi migratori verso la nostra nazione da criminali, scafisti o peggio da chi vuole destabilizzare la nostra nazione e l'Europa.